Visto che costano però, vedi se si guardano le statistiche qua proprio, se uno aspetta adesso che rimanga altrimenti è avere dei figli che si deve prendere a posto economicamente e poi avere dei figli, non fa più di figli, se ragazzi, non è d'accordo, i figli voglio dire, sono pezzi, i corsi devono arrivare, arrivano, voglio dire, è un dono, io la vedo così, poi voglio dire è normale che hanno dei figli.